bene ragazzi benvenuti in questa nuova live ho fatto una cosa proprio oggi non si sa mai perché può essere che ci richiudono e quindi ho dato un taglio ragazzi e io quando da un taglio ovviamente divento così irriconoscibile e vabbè insomma e che c'è c'è poco da fare ragazzi allora io faccio sempre due tagli di capelli all'anno poi mi faccio ricrescere la testa in questo modo però per sicurezza insomma è meglio è meglio insomma prevenire un eventuale lock ma non credo insomma che lo faranno però in linea di massima insomma ragazzi ci ho dato un taglio allora bene ciao a tutti benvenuti in questa nuova live tra le altre cose stiamo in collegamento con riccardo masutti che è un caro amico tra le altre cose che oggi ci accompagnerà per fare una bellissima cosa cioè andare a ragionare su quelli che sono i passi e i trucchi per mantenere al sicuro le nostre criptovalute quindi andremo a fare questo questo video questo video live dove parleremo di tutto quello che la tematica della sicurezza di bitcoin e parleremo anche della privacy che è un argomento estremamente importante è assolutamente rilevante da tenere a mente ragazzi nell'ambito cripto perché le cripto sono state create anche per per questo ok e poi soprattutto moltissimi di voi mi hanno sempre chiesto diverse diverse volte eh quali erano i i trucchi eh da eh andare a ad applicare per quanto riguarda eh per esempio i wallet quindi quali sono i wallet migliori che differenza c'è eh fra un software wallet e un art wallet e poi come andare a mantenere le le password eh e tutte quelle che sono delle piccolezze ragazzi alla fine perché magari non riguardano quello che possiamo dire eh insomma l'andamento degli investimenti eccetera però poi spesso spesso mi è capitato ma soprattutto negli ultimi periodi che molti di voi eh mi hanno eh chiesto eh come andare a recuperare determinate cripto che hanno perso eh e e questo è beh ragazzi è un problema perché le cripto non si possono recuperare allora tempo fa ehm ho parlato eh intanto saluto tutti e anche Giuseppe eh benvenuto Enrico ciao eh che eh eh sei stato il primo a commentare poi ci sono anche gli altri ragazzi eh ciao free allora no ben da OVR OVR ha fatto il botto dopo la nostra live ragazzi sono stracontento per chi di voi ovviamente è salito su questo carro ehm e sono insomma contentissimo il progetto ne vale la pena io porto sempre cose che eh sul mio canale che insomma ritengo opportuno ritengo giusto ragazzi ok eh ciao Rubens eh benvenuto anche a te e insomma ehm ok eh ok ciao Alberto sì eh sono più giovane più che insomma ok ti ringrazio eh grazie Mirko anche a te insomma per i complimenti eh insomma eh insomma vabbè ok ci siamo ciao Claudio oh ci vediamo anche qui eh come stai eh Claudio è un nostro iscritto da pochissimo in Academy eh eh è arrivato allora ciao Pierfrancesco anche a te eh Werther Werther mi ricorda però eh un po' la Germania vabbè da questo punto di vista ciao ragazzi ciao a tutti veramente ciao ciao a tutti ehm va bene ragazzi allora questo però un commento che merita eh risposta quando il barbecue virtuale in Sardegna allora sì dobbiamo farlo questa cosa vediamo lo organizziamo un barbecue quando inziano i programmatori a sviluppare su OVR andiamo nella mia spiaggia eh che poi alla fine ragazzi ho comprato un pezzettino di mare a quello che ho visto insomma neanche la spiaggia vabbè comunque scherzi a parte eh alla fine ehm insomma dobbiamo organizzare questa questa cosa va bene ragazzi allora ehm intanto che aspettiamo Riccardo che si sta connettendo eh volevo eh anche fare il punto della situazione avete visto un po' Bitcoin che cosa ha fatto oggi eh beh insomma ha fatto veramente sta un po' scendendo ragazzi però lo sapevamo un po' e la chiusura del mensile si fa sentire probabilmente ci sarà da ballare ehm eccetera ah ok eh però insomma ehm vedremo insomma un po' anzi vi faccio vedere anche un graficuccio di Bitcoin tanto ci siamo nel frattempo ehm ok vediamo se ve lo condivido ok vediamo un attimo ragazzi eccolo qui ok vi condivido questo grafico così diamo un'occhiatina anche a Bitcoin nel frattempo e e beh ragazzi insomma il ribasso con il famoso eh diciamo rimbalzo del gatto morto questa volta è avvenuto alla perfezione ma soprattutto siamo entrati nella zona di ehm di di aria di possibile chiusura del ciclo ehm mensile a dire la verità questa è una situazione pericolosa su Bitcoin ragazzi poi ne parleremo probabilmente eh prossimamente nei video ma ehm insomma ehm eh dovremmo un po' ehm andare a eh verificare un po' quello che può succedere nella nella prossima settimana anche ragazzi perché è delicata una situazione molto 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 eh delicata eh ok ragazzi allora eh sembra che Riccardo abbia dei problemi con ehm la connessione da quello che vedo eh quindi ehm dobbiamo un po' aspettarlo ma nel frattempo facciamo una bella cosa inizio io a parlarvi di quella che è la ehm questione sicurezza eh relazione alla eh alla questione cripto ragazzi allora la sicurezza e vi racconto un aneddoto eh vi racconto un aneddoto eh relativamente al mio ma l'avevo già ne avevo già parlato tempo fa eh per spiegarvi quello che significa soprattutto per i nuovi arrivati in questo mondo il concetto della sicurezza su Bitcoin allora questa estate ragazzi io ho preso il mio iPhone ok eh avendo addosso eh gli occhiali da sole il signor iPhone che hanno questo sistema di sblocco face che fa schifo per non dire altro ok eh soprattutto con ambito mascherina un disagio ragazzi ok e allora cosa fa non riconosce il viso per via del Face ID eh per gli occhiali da sole eh in pratica io stanco di aspettare costantemente lo sblocco in spiaggia sotto il sole e cosa faccio resetto il Face ID e provo a ehm eh fare sì che il Face ID mi prendesse anche gli occhiali da sole ovviamente non ci riesco perché non lo riconosce lo stesso e però una cosa succede Face ID era collegato al mio wallet eh di Coinbase ragazzi e cosa fa geniale proprio questa storia siccome Coinbase vede che io ho resettato il eh wallet eh il Face ID mi blocca il wallet l'accesso al mio wallet privato ragazzi tre ore di panico perché perché io non ricordavo se avevo salvato il seed del wallet privato quindi qui è veramente una storia vera ragazzi questa cosa qui eh perché non avevo quasi niente lì però proprio qualche giorno prima avevo trasferito dei Bitcoin per fare un'operazione in DeFi quindi ehm eh in DeFi scusate e l'avevo trasferito proprio pochi giorni prima quindi era una concomitanza di cose se non che ragazzi eh blocco sul telefono del mio wallet eh chiaramente mi bloccava l'accesso ai miei Bitcoin presenti sul wallet di Coinbase non c'era modo di recuperare questa cosa se io non avessi salvato il seed del mio wallet Coinbase che avevo ovviamente salvato poi mi sono ricordato però ho avuto quelle ore di panico perché non ricordavo minimamente questa cosa cioè non ricordavo se avessi salvato quel seed quindi poi sono dovuto risalire dalla zona eh marittima e in studio per trovare tutte le password o fare tutti gli accessi insomma avevo poi il seed quindi ho recuperato il wallet e con dentro i miei BTC ragazzi questo è il vero problema grave 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 eh della sicurezza di Bitcoin cioè Bitcoin se l'avete su wallet privato perdete il seed siete disattenti perdete la password vi si spegne un un iPhone e fare le sue solite cose con questi casini che stanno combinando ultimamente è un problema ragazzi quindi attenzionare il la sicurezza e i concetti legati ai wallet è fondamentale perché eh altrimenti ragazzi tutto quello che facciamo tutto il lavoro che facciamo magari su Bitcoin eccetera eh poi viene viene meno insomma ok ragazzi questo è il discorso quindi io nonostante la mia esperienza veramente di anni e anni ho avuto paura proprio quest'estate questo mi fa capire è la differenza intanto è arrivato mister Ricky vediamo se se lo sentiamo allora intanto ciao ciao a tutti ragazzi ho avuto un po' di problemi però adesso ci sono ciao Riccardo intanto come stai ci vediamo da un po' io e te perché eh da quando ci hanno chiuso ci hanno bloccato anche la possibilità di di vederci e di fare le nostre solite diciamo cene alla eh a Milano insomma ok guarda sto bene benissimo parlando di problemi relativi a Bitcoin sì do altro anch'io rischiato grosso settimana scorsa due settimane fa eh perché uno dei dei nodi dei server che utilizzavo per eh Lightning Network e per altre cose di insomma di Bitcoin ha letteralmente preso fuoco eh quindi sempre per il discorso di backup questo mostra l'ennesima volta e mostra l'importanza di fare backup e di pensare a tutte le problematiche in cui in cui potremmo eh tutte le problematiche ci sono relative a eh i dati online perché non sempre il cloud e i server online ci tutelano quindi oggi dobbiamo parlare appunto di questo va bene va bene allora eh intanto benvenuto ehm Riccardo ragazzi è esperto nel settore sicurezza e hacking eh ovviamente come tutti gli esperti sicurezza e anche hacker lui eh già lo era da tanto dopo di insomma a parte queste cose eh tempo fa ha redatto anche la traduzione italiana di Mastering Bitcoin e ancora è ancora su Amazon giusto? Sì 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 è ancora su Amazon anzi ricordo che eh hai fatto un video diverso tempo fa quasi due anni fa che è dopo uscita anche la seconda edizione aggiornata con Lightning Network quindi sì sì no è fantastico mi sono accorto che ehm ed è una cosa bella secondo me che con eh l'aumentare del prezzo di Bitcoin aumentano anche le vendite del libro vuol dire che comunque c'è c'è interesse proprio da parte delle persone non solo di capire l'aspetto economico e sociale di Bitcoin ma anche di capire l'aspetto tecnico perché appunto Mastering Bitcoin è un libro molto molto tecnico però che fa capire molto bene insomma cos'è Bitcoin. Io lo ce l'ho di lì adesso non mi alzo però ce l'ho di lì nella tua copia gigante così insomma di Mastering Bitcoin va bene e allora abbiamo preparato con con Riccardo quelli che sono i sette consigli relativi alla discorso sicurezza eh attraverso sette domande quindi faremo un po' questo ragionamento insieme anche per dare a tutti quanti voi una visione generale del problema poi eh parleremo anche dei wallet quindi nella parte della live ci sarà il wallet e tutto quello che riguarda hard wallet e software wallet le differenze parleremo di wasabi wallet che è quello che usi di più se non sbaglio vero Riccardo? Ma oltre che usare sono uno sviluppatore di wasabi faccio parte del team quindi sì eh diciamo il punto proprio questo eh io sono entrato a contribuire eh insomma nello sviluppo di wasabi perché avevo uno strumento di cui io necessitavo quindi alla fine essendo tutto il concetto open source una cosa molto bella che permette a chiunque di contribuire e di migliorare appunto in questo caso un wallet ho deciso di entrare di metterci la mia insomma di migliorare un uno strumento che io stesso utilizzo. Ok ok sì eh questo in effetti è il modo eh secondo me migliore per approcciare anche nel settore cripto per chi è uno sviluppatore come te e quindi eh dare il contributo dal doppio punto di vista quindi in tutto ciò in cui si crede e poi in tutto ciò di cui si ha necessità perché poi questo mondo lo stiamo creando eh in divenire no? Ok? Abbiamo iniziato poco fa ci sono le prime applicazioni quest'anno sicuramente il boom anche degli NFT per esempio in altri ambiti e tutto da creare e tutto quanto da da sistemare. Va bene allora eh Riccardo allora io ti faccio eh parlare un pochettino però eh qual è il primo tips che vogliamo dare a oggi alla community relativa al discorso sicurezza quindi il primo primo consiglio. Ma innanzitutto è quello di valutare la propria vostra unica eh situazione attuale eh anche il valore e il volume delle transazioni che effettuate con bitcoin o altre criptovalute eh questo per delineare un un threat model e delineare insomma una strategia per mettere in sicurezza i vostri fondi anche per gestirli con maggior privacy. Eh e questo sicuramente è il primo punto quindi capire in quale stato vi trovate cosa avete cosa non avete e quanta sicurezza avete per ogni punto specifico. Eh per esempio. Parli di capire di insomma la quantità di capitale a disposizione perché c'è un atteggiamento diverso. Assolutamente sì. Ma solitamente bisogna capire il valore delle transazioni e il volume delle transazioni che si fanno e si effettuano. Bisogna capire in quanti exchange siete iscritti. Bisogna capire qual è lo stato il lo stato vostro attuale di come gestite i fondi. Se avete degli hot wallet o dei cold wallet. Insomma sono cose di cui andremo a parlare comunque più precisamente eh nei prossimi minuti. Eh il secondo punto è sicuramente quello di avere e utilizzare un dispositivo dedicato per tutto ciò che riguarda bitcoin e criptovalute e anche non solo magari anche cose che voi volete tenere in forma confidenziale. Quindi dei dati che devono rimanere al segreto e che solo voi dovete conoscere. Quindi un dispositivo dedicato è fantastico. Con dispositivo dedicato non parlo solamente di hardware wallet in questo caso ma parlo anche di un computer vero e proprio per gestire solamente questi fondi. Perché ricordiamoci che la bellezza di bitcoin è che è tutto trasparente e non abbiamo bisogno di intermediari. Però questo presuppone che noi stessi siamo tutti eh che tuteliamo la nostra sicurezza e privacy. E quindi è una cosa molto molto importante da fare. Su questo punto però ti fermo Riccardo perché sono sicuro che eh moltissimi eh che sono qui eh connessi o che vedranno anche questa questa live su questo punto ti staranno ascoltando e poi diranno sì vabbè ma che vuoi che sia. Allora io dico che ehm bisognerebbe ragionare un po' perché secondo me questo poi è una questione delicata eh ovviamente tu fai riferimento solo a ai wallet che sono presenti e quindi su su di cui noi possediamo le chiavi private giusto quindi eh wallet o software in questo caso quindi presenti sulle nostre macchine e però di cui possediamo le chiavi. Ma non solo in realtà perché quello di cui parlo io è di come mettere in sicurezza anche i vostri account quindi magari dei wallet, dei fondi non eh di fondi custodial o degli exchange, degli account per esempio di Binance o altri exchange perché là dentro detenete dei soldi, detenete valore quindi è molto importante tenere al sicuro questo valore. Purtroppo non c'è nessuno che ci tutela in questo ecosistema che è Bitcoin però questa è la forza di Bitcoin stessa che ci dà la libertà, ci dà l'individualità e ci permette di essere gli unici garanti e gli unici eh guardiani dei nostri fondi in questo caso. C'è sempre un trade off eh tra quello che è la semplicità d'uso e la protezione. E secondo me questo trade off ha questa clessidra al centro, questo eh diciamo bilancia che si muove, chiamiamola così, eh in base anche alle skills della persona eh che di cui stiamo parlando. Molto spesso si parla di custodi infatti per i grandi investitori proprio perché non c'è la volontà di assumersi la propria responsabilità dei nostri fondi. Forse ci siamo disabituati dopo anni e anni di di possesso del denaro da parte delle banche diciamo e non personale. E tu che ne pensi diciamo da questo punto di vista? Cioè come facciamo a integrare la semplicità d'uso per un utente magari beginner che è appena arrivato, che è appena entrato in questo mercato eh magari già dobbiamo dargli l'onere di studiare bitcoin, studiare tutto quello che è la struttura, di studiare gli investimenti, i grafici, se vuole fare analisi e poi anche l'onere di eh andare a ragionare sulla sicurezza. Oppure ci sono degli step che puoi consigliare a chi proprio oggi in questo momento per la prima volta sta dicendo voglio comprare bitcoin. Ma è proprio questo il primo punto è appunto valutare la vostra situazione attuale. La cosa bella è che su bitcoin potenzialmente potete avere infiniti wallet e infiniti indirizzi. Potete anche affidarvi a infiniti servizi terzi. Quindi perché non sfruttare tutte e tre le cose? Noi potremmo tranquillamente decidere di detenere una parte dei nostri fondi più a rischio magari su degli exchange o dei wallet che sono che si trovano sul computer o device insicuri. Mentre potremmo contemporaneamente avere altri wallet magari in questo caso per il lungo termine che teniamo al sicuro e teniamo offline. Oppure potremmo anche decidere di affidarci a servizi terzi che si fanno da custodial che è una cosa fantastica secondo me. Ovviamente va un po' contro il concetto di bitcoin che ci permette di avere in mano le chiavi private appunto i fondi, i bitcoin stessi. Però contemporaneamente è molto molto utile. Non solo per i grandi investitori ma anche per i piccoli. Perché poi il discorso di valore, di quantità è una cosa soggettiva. Qualcosa che per te potrebbe essere di molto valore e che costa molto e per me potrebbe essere meno. Quindi il fatto che solo i grandi investitori dovrebbero sfruttare questi servizi secondo me è sbagliato. Dovrebbero sfruttarli tutti appunto però partendo dal presupposto che bisogna capire se fanno per noi o meno. Il concetto di sicurezza come dici te è un compromesso. Deve esserci sempre un compromesso tra sicurezza e convenienza. Un qualcosa che è estremamente sicuro ovviamente sarà molto più macchinoso e molto più tecnico da attuare. Mentre un qualcosa che è molto semplice solitamente poco sicuro. Quindi come dici te bisogna trovare un balance, una via di mezzo oppure potremmo tranquillamente decidere di fare entrambe le cose. Quindi di tenere un qualcosa estremamente al sicuro e un qualcosa poco al sicuro. A nostra discrezione ovviamente. Anche qui l'ipotesi della diversificazione della sicurezza la potremmo chiamare così. Però in effetti questa cosa è giusta perché per esempio alcuni già scrivevano prima ti riprendo questo messaggio guarda di Claudio e diceva i bitcoin sul wallet privato non si possono mettere a rendita. Questo secondo me lo affrontiamo dopo Claudio perché è un problema che magari ci unisce. Unisce me e Riccardo proprio a doppio filo. E però effettivamente è una decisione che io stesso mi sono trovato a dire come faccio, cosa faccio. Ma in realtà ci sono dei modi per guadagnare e avere degli interessi sui bitcoin che blocchiamo senza passare per exchange. Potremmo per esempio offrire liquidità su Lightning Network. Quindi bloccare dei nostri bitcoin per fare in modo che altri utenti sfruttino la nostra liquidità per effettuare transazioni su Lightning Network. Per chi non lo sapesse Lightning Network ha un secondo layer di bitcoin che ci permette di effettuare microtransazioni in tempo reale e in modo economico. Oppure potremmo decidere di bloccare i bitcoin su join market per offrire in questo caso liquidità per chi vuole fare coin join. Oppure potremmo decidere di bloccarli. Adesso ci sono tanti altri progetti molto interessanti, DeFi su bitcoin, che ci permettono di fare le rendite dei nostri bitcoin senza consegnarli a terzi. Che secondo me è una cosa veramente grandiosa. Però appunto in questo caso, vedete, richiede un minimo di competenze e conoscenze. Perché ricordiamoci che per avere una rendita su bitcoin i bitcoin solitamente devono trovarsi su un computer connesso a internet. E tutto ciò che è connesso a internet è potenzialmente attaccabile dall'esterno e quindi i vostri fondi non sono al sicuro. Però insomma andremo a parlare anche di questo dopo. E appunto il terzo punto era proprio questo, il secondo punto era proprio questo, scusate il terzo, è di suddividere i rischi. Quindi avere più wallet, quindi hot wallet collegate a internet e cold wallet completamente offline. E magari non tutto su un unico exchange. O perlomeno tenere i bitcoin che vogliamo tradare su un exchange solo nel lasso di tempo necessario per effettuare le transazioni. Quando noi vogliamo magari avere una posizione e non abbiamo bisogno di avere i bitcoin bloccati su un exchange, potenzialmente sarebbe molto più intelligente spostarli su un wallet al sicuro. Magari ha dei costi, perché ovviamente ogni transazione ha un costo, però è marginale. Giusto? Dipende sempre da quanti fondi abbiamo bloccato sull'exchange. In ogni caso, avere fondi su una terza parte ci comporta anche dei rischi, perché Binance, come altre aziende, adesso dico Binance, perché so che comunque Binance è quello più conosciuto, ma Binance potrebbe fallire, potrebbe essere hackerato, potrebbe chiudere i battenti, potrebbe avere dei problemi tecnici. Quindi ogni qualvolta che noi abbiamo i bitcoin da un'altra parte non ne siamo i veri possessori. Ci dobbiamo fidare che il servizio funzioni quando vogliamo toglierli o inviarli o fare altre operazioni. Però questa è appunto la propria discrezione. Anche su questo io ho serie di dubbi, per esempio, in alcune situazioni ne ho parlato in Academy, nelle chat adeguate relative alla sicurezza, quando si è parlato, ritornando all'argomento di prima, di Sefai. Non per, diciamo, parlare senza avere dati, perché poi i dati non ne abbiamo, però un po' la sensazione che in un eventuale crash di bitcoin, dei prezzi di bitcoin, perché il problema è che la volatilità di bitcoin, quando arriva, poi tutti vogliono chiudere, tutti vogliono vendere. Quei servizi che sono poi presenti, non faccio i nomi qui, che sono anche servizi che utilizzo io, avranno la possibilità o daranno la possibilità a tutti gli utenti di prelevare i propri bitcoin presenti su quei wallet? Punto interrogativo. Ma alcuni magari, tipo Nexon, hanno creato gli exchange interni, ma anche quello, ragazzi, avranno, daranno la possibilità di fare il change in USDT o in stable? Su questo io ho un po' di dubbi al momento, anche perché più volte è capitato che sono servizi nuovi, innovativi, magari danno un po' di sicurezza, però non sono stati testati in un momento di crash di bitcoin. Magari, ecco, non ci aspettiamo un marzo 2020 di nuovo, però, insomma, tutto può succedere. Quindi che fine fanno in quel caso? Poi magari io e Riccardo ci ricordiamo qualche anno fa i vari hack degli exchange, i vari problemi anche di accesso, per esempio Coinbase stesso in quest'anno sta, diciamo, ha avuto diverse problematiche di accesso proprio nelle fasi di flash crash di bitcoin e sono stati minuscoli flash crash. Immaginiamo una cosa un po' più grossa e un po' quella sensazione di pericolo ce la portiamo dietro. Comunque, vabbè. Allora, tornando ai software però, Riccardo, allora, tu hai parlato anche di un computer collegato per fare solo questo, ma davvero una cosa del genere è necessaria? Assolutamente sì. Cioè, io sento ogni giorno di persone che vengono hackerate, ma anche, non solo hackerate, ma anche un semplice phishing attacchi che magari non ci rendono conto di inserire informazioni nel luogo sbagliato. Cioè, la importanza di avere un device dedicato per gestire bitcoin e gli account di vari exchange è molto importante, perché ricordiamoci che ogni volta che noi siamo su internet potenzialmente siamo attaccabili dall'esterno. Quindi, molte persone pensano che, ad esempio, non parliamo degli exchange, perché l'exchange è un'altra cosa a parte di cui parlerò appunto nei prossimi punti, ma poniamo il caso del famoso hardware wallet. Tutti i youtuber, tutte le persone vi consiglieranno un hardware wallet, senza pensare però che l'hardware wallet, sì, vi mette al sicuro offline i vostri fondi, le vostre chiavi private, però anche l'hardware wallet potrebbe essere vulnerabile. Il computer potrebbe... Nel senso che noi ci fidiamo, noi quando acquistiamo un hardware wallet diamo fiducia che in tutta la fase della supply chain, quindi dalla creazione del wallet stesso, dall'hardware, dall'implementazione software, dalla spedizione o quant'altro, l'hardware non venga modificato da qualcuno. Oppure speriamo che l'hardware sia abbastanza sicuro e che non contenga backdoor a prescindere. Oppure ci fidiamo che non ci siano bug non ancora trovati, ma ogni giorno si trovano dei bug anche sugli hardware wallet. Ogni giorno. E il discorso di avere un computer dedicato, anche se avete già un hardware wallet, è importante perché vi tutela anche da tutti quei virus che nulla centrano con la gestione delle chiavi private dell'hardware wallet. Poniamo un esempio. Se voi utilizzate il vostro computer, copiate e incollate un indirizzo perché volete effettuare un pagamento dal vostro hardware wallet. Certo, i fondi dell'hardware wallet sono sempre al sicuro, ma voi potreste, ripeto, sono supposizioni, potreste avere un virus nel computer che vi cambia l'indirizzo in un altro indirizzo e voi neanche vi accorgete che state inviando Bitcoin a un indirizzo errato. Ok? Questo è semplicemente un esempio. Ma il concetto che un hardware wallet vi darà la massima sicurezza è sbagliato. Non è assolutamente così. Vi migliora la sicurezza, però vi sposta il piano d'attacco da un piano remoto a un piano esclusivamente fisico. Quindi, ok, noi compriamo un hardware wallet e potenzialmente gli hacker non possono rubarci i fondi di quell'hardware wallet. Però in quel caso noi dobbiamo tenere al sicuro l'hardware wallet ad attacchi fisici, il seed ad attacchi fisici, dobbiamo sperare che l'hardware wallet non venga bucato, che non ci sono bug. Quindi in realtà semplicemente spostiamo la superficie d'attacco da un qualcosa di remoto a un qualcosa di fisico o insomma che c'entri con l'hardware wallet stesso. Che poi alla fine forse questo qualcosa di fisico è anche peggio da certi punti di vista perché la distrazione basterebbe un qualsiasi cosa, un ladro in casa, è fine dei giochi alla fine. Quindi forse è anche meglio parlare della parte software. Io non sono mai stato un grande sostenitore dell'hardware wallet e dall'inizio proprio di bitcoin ho sempre apprezzato di più la parte software ma perché io sono anche una persona che vuole avere tutto sotto mano velocemente. Quindi l'hardware wallet non te lo porti dietro nel mondo, cioè oddio te lo puoi portare ma vai a fare un viaggio portandoti dietro quel wallet lì insomma è pericoloso. E' questo il discorso del trovare una cosa giusta tra valore delle transazioni e quantità delle transazioni perché se io non sono una persona che effetto tantissime transazioni con molto valore allora forse un hardware wallet è interessante. Se io invece effetto poche transazioni però ha molto valore è molto più intelligente magari avere un computer dedicato offline piuttosto che un hardware wallet. Quindi dipende da caso a caso. Se io ho pochi fondi e faccio poche transazioni potrei tranquillamente tenerli su un exchange. Quindi dipende, è una cosa molto soggettiva. Io prima allora ho fatto un giochino e Riccardo non so se l'hai visto poco fa, ho fatto vedere questa cosa. Ragazzi adesso questa cosa qui è un phishing che è successo a un mio cliente pochissimi giorni fa, tra l'altro lo saluto, non dico il nome per privacy, ovviamente ciao se sei in linea però mostro questo phishing. Questo è un classico conto wallet di Coinbase con 592 milioni di dollari che gli sono stati accreditati dalla sera alla mattina attraverso una coin. Poi tutta la notte a lavorare su questa cosa per capire cosa fosse successo. In realtà era semplicemente un giochino splendido perché attraverso questo giochino il hacker avevano creato un token con lo stesso nome di un'altra coin presente già nel database di Coinbase e giocando una falla di Coinbase wallet che non riconosce che effettivamente la coin si chiama uguale ma non è prezzata come quella vera, cosa fa? Va a dare questo saldo e in effetti le coin erano anche presenti all'interno del wallet. Poi stranamente non si potevano spostare sui wallet di riferimento della coin vera per venderli su Binance. Al che insomma andando poi a guardare tutti i fili di questa manovra era stata creata questa manovra per poi dire la semplice frase ah sì il tuo wallet ha veramente questa coin però devi sbloccarlo dammi le chiavi private bla 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 quindi questo è un giochino ragazzi per accedere via phishing ad un wallet di una terza persona perché in effetti guardate qui ragazzi questi sono proprio i saldi veri del Coinbase wallet quindi la persona in questione si è trovato questo saldo se avesse dato poi ovviamente non l'ha fatto non era uno stolto però se avesse dato una diciamo retta a chi poi gli proponeva di sblocco se mi dai le chiavi private ecco lì il gioco è fatto e tutti i fondi presenti su questo wallet venivano meno ovviamente questi 592 mila dollari non esistono perché la coin in questione non esiste non so se la sapevi tu questa questa truffa ci sono tantissime tipologie di phishing ovviamente vedete qua il discorso che se il fattore x è sempre umano cioè se noi non conosciamo queste cose non siamo neanche in grado da tutelarci da questo tipo di attacchi quindi lo studio e l'impegno e la costanza appunto nello studiare nell'apprendere questi temi ci tutela da questi attacchi noi possiamo avere il sistema più sicuro del mondo ma se poi non siamo non sappiamo riconoscere un sito vero da un sito falso una mail vero da una mail farsa e scarichiamo tutto di più sul nostro computer allora poi non dobbiamo lamentarci se veniamo hackerati quindi lo studio ricordatevi è sempre la cosa più importante e a tal proposito devo fare una piccola 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 diciamo fuori tema perché mi ero ripromesso di fare questa cosa oggi al primo momento perché ragazzi allora questo è il mio il mio youtube ragazzi questi che vedete qui non sono io sono dei cloni che cercano di farvi spam ok quindi c'è difficoltà da parte di youtube nel riconoscere questi scammer attraverso messaggi e qualcuno c'è cascato perché mi ha anche scritto che gli hanno rubato i soldi quindi mi raccomando se vedete delle dei nomi strani delle cose strane non sono io ma non c'è modo per me di bloccare queste cose abbiamo in tutti i modi chiesto a youtube ma youtube evidentemente c'è una falla da questo punto di vista però una cosa c'è da dirla quando io commento ragazzi il mio nome appare evidenziato quindi in grigino non lo vedete così quindi questo non è il vero il mio vero account ma incredibile cronato in tutti i modi insomma alla fine vedete qui ha fatto un disastro non c'è modo di bloccarlo quindi mi raccomando quando vedete queste cose sono degli scammer quindi attenzione gli scammer sono ovunque praticamente ormai anche perché è gratis fare scambio perché non costa niente al bot va bene allora scusa riccardo questa era una un fuori tema ma dovuto dovuto allora hai parlato anche di queste differenze fra cold wallet e software wallet wasabi però è un software wallet giusto se wasabi in questo caso un software wallet per desktop da un wallet privacy oriented quindi si incentra tutto lo sviluppo viene incentrato per dare la massima privacy all'utente ok ma è anche però collegabile se non ricordo male ad un hardware wallet esatto sì sì la mano la maggior parte degli hardware wallet sì comunque supportata da wasabi però ok se posso tornare indietro il discorso degli exchange mi faceva piacere un attimo dare un po di consigli ovviamente credo che ma che mauro vi abbia già detto insomma di utilizzare anche dei password manager in questo caso quindi magari non la stessa password manager adesso devi fare dieci minuti di lezione perché è fondamentale questa cosa ma essenzialmente la maggior parte delle persone purtroppo ad oggi crea password con la propria mente e cerca di creare un qualcosa di casuale ma che cosa che casuale non è la mente umana ragiona sempre sempre tramite dei pattern quindi non sempre non saremo mai in grado di creare qualcosa di veramente casuale e poi pensate a tutti gli exchange a tutti i servizi prodotti che utilizzate sarebbe impensabile ricordarsi centinaia di password quindi come fare ci sono dei dei software chiamati password manager ovvero dei programmi che ci permettono di creare password uniche per ogni servizio che utilizziamo ed ultra sicure che sono molto molto utili in questo caso per tutti i trader ma in generale per tutti quelli che che hanno degli account online quindi qual è la bellezza di queste cose che noi con un'unica password in questo caso molto lunga molto sicura possiamo sbloccare un database crittografato che a sua volta contiene infinite password ultra sicure per tutti le nostre nostre account online che non dovremo mai ricordare quindi noi in realtà dovremmo dovremmo ricordare solo una password ultra sicura per sbloccare tutte le altre password dei nostri account online che sono ultra sicure proprio di grandezza di ordini di grandezza molto molto alti e sono sicuri riccardo i password manager sì sono sicuri a patto che noi abbiamo un computer sicuro perché ovviamente sono crittografati e vengono sbloccati solo quando noi ne siamo una password però prima cosa dobbiamo avere una password sicura seconda cosa nessuno deve accedere al nostro computer e terza cosa non dovrebbero esserci dei virus dentro il nostro computer vedete che c'è sempre la sicurezza va a step non possiamo avere la massima sicurezza comprando qualcosa un prodotto un servizio dobbiamo aggiungere livelli di sicurezza ai nostri account in questo caso infatti poniamo caso che un hacker riesca a recuperare la nostra password nel nostro account anche se ultra sicura ovviamente in questo caso potrebbe entrare nel nostro account l'exchange quindi come fare c'è un'ulteriore cosa che consiglio sempre a tutti che si chiama autenticazione due fattori quindi il famoso codice sms che ci arriva sul teleurale per accedere all'exchange oppure il famoso codice che abbiamo sull'app per appunto cedere all'exchange ma entrambe le cose non sono per niente sicure perché perché l sms necessita di batteria perché dobbiamo avere uno smartphone quindi se non abbiamo batteria non entriamo sul nostro account di necessità di campo quindi se non abbiamo campo non entriamo sul nostro account e è anche una connessione cioè l'invio di un sms non è una cosa sicura chiunque potenzialmente può intercettarlo adesso non parlerò degli vari attacchi di sim jacking di colorazione delle sim e altro però sappiate uno raccontacelo dai guarda ma è successo due settimane fa c'è stato appunto un famoso processo adesso mi pare a team perché un hacker è riuscito mi pare dopo un data breach non vorrei dire una cavolata un data breach che è accaduto due anni fa è riuscito a fingere di essere il proprietario di una specifica sim card si è fatto rinviare una nuova sim card e è riuscito ad appunto hackerare questa persona semplicemente fingendosi e rubandogli l'identità e chiamando il supporto di team per chiedere il cambio di sim cioè vedete purtroppo dietro tutte queste cose qua ci sono sempre degli umani e gli umani sbagliano sempre perché è di nostra natura sbagliare quindi noi non dobbiamo fidarci delle persone dobbiamo però fidarci della matematica che è base dell'appunto dell'entropia della criptografia e dell'informatica a volte non sempre quindi se potete avvilitate comunque l'autenticazione dei due fattori ma evitate di avere l'autenticazione dei due fattori tramite sms oppure tramite app perché anche in questo caso l'app ha bisogno della batteria bisogna la connessione e altro la cosa migliore è avere dei dispositivi dedicati che sono anche le famose chiavette che ci dava la banca fino a poco tempo fa che ci permettono di generare e tenere al sicuro in un dispositivo offline questi codici di autenticazione quindi che non possono essere tra virgolette sniffati dall'esterno quindi questa è una cosa grandiosa per tutti quelli che hanno account online perché le banche non hanno più queste chiavette adesso le hanno tolte perché anche loro hanno preferito l'usabilità probabilmente è tutto sugli smartphone di questi non c'è parlato però smartphone android ios che differenza ma nessuna differenza nel senso che la differenza principale tra android e ios in questo caso che android open source e ios closet source ios si basa sul concetto di security by obscurity quindi noi pensiamo di essere sicuro perché il codice sorgente di ios è chiuso e quindi potenzialmente meno imprenetrabile d'altro canto quello che usa android dice no io ho un codice aperto quindi ci sono meno bug e tutta la community può migliorarlo ma in ogni caso ricordiamoci che voi potete avere il sistema operativo migliore del mondo ma se poi non sapete utilizzarlo e non sapete metterlo al sicuro poco importa detto ciò ad oggi fortunatamente la maggior parte di smartphone e sistemi operativi sfruttano delle tecnologie che ci danno più sicurezza rispetto a un computer con windows per esempio però anche in questo caso non abbiamo assolutamente un qualcosa di estremamente sicuro noi petto abbiamo oggi la possibilità di avere password manager dispositivi sicuri autenticazione dei due fattori quindi il trucco sta nell'usare tutte queste tecnologie per migliorare il nostro stato attuale non dobbiamo fidarci di una sola cosa dobbiamo cercare di non fidarci di nessuno e di niente ma di sfruttare tutte queste cose per avere il massimo che che il mercato ci ha a disposizione allora dacci un flash password manager il tuo preferito keypass xc si chiama keypass xc ma ce ne sono tantissimi è un'app sì 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 è un'app sia per desktop che per smartphone ma in ogni caso anche là ci sono tanti password manager parlando di convenienza sicurezza un password manager online è molto più conveniente ma è meno sicuro un password manager offline è più sicuro ma meno conveniente quindi ricordiamo il punto il primo punto è capire qual è la vostra situazione attuale e capire anche quali sono qual è il vostro threat model quindi quanto volete essere sicuro e chi potrebbe attaccarvi e invece per quanto riguarda il 2 fa quello di google che è il più utilizzato ma se google autenticator come ho detto prima io eviterai di utilizzare delle app utilizzerai dei dei token hardware veri e proprie delle chiavette quella che consiglio io è yubi key si chiama yubi key oppure nitro key esatto poi e si può anche utilizzare la yubi key in combinazione con keypass quindi aggiungere un ulteriore livello di sicurezza sei tu questo sei tu non riesco a fare più cose contemporanea purtroppo va bene però parlando dei hardware wallet di seed certo c'è della sicurezza però anche in questo caso dobbiamo trovare il modo di mettere al sicuro il seed giusto il hardware wallet quindi come mettere al sicuro il seed sicuramente un pezzo di carta non è la cosa migliore perché un pezzo di carta è facilmente individuabile potrebbe bruciare potrebbe prendere acqua potrebbe macchiarsi insomma e noi potremmo perdere tutti i nostri fondi quindi il sesto punto che consiglio il mio sesto consiglio è quello di non solo ipotizzare diversi attacchi che potrebbero farvi perdere i vostri bitcoin seed password e codici di autenticazione dei fattori come appunto catastrofi naturali ladri perdita della memoria o salute e altro quindi cercate di ipotizzare tutte queste problematiche e definite anche un piano ereditario cosa succede se voi non siete più in grado di entrare nei vostri account o nel peggio dell'ipotesi non ci siete più in questo mondo c'è qualcuno che sa come recuperare queste cose se sì molto bene se no sarà il momento di cominciare a preoccuparsi di queste cose e lo dico per esperienza io ho avuto una persona che diversi anni fa mi ha contattato anni fa perché dopo un incidente esternale ha perso la memoria e lui non sapeva più insomma niente dei suoi bitcoin sapeva che aveva dei bitcoin ma non sapeva dove era il seed non sapeva cosa aveva fatto quindi cercate anche di ipotizzare queste cose qua perché veramente potrebbe accadere di tutto non solo catastrofi naturali non solo furti ma anche perdita di memoria di salute o altro quindi cercate di avere un piano anche ereditario dei vostri bitcoin e criptovalute e l'ultimo punto dobbiamo fare anche quindi il security plan l'ultimo punto è quello di non dire a nessuno che possiedete bitcoin tranne le persone disegnate nel punto precedente ovviamente perché ricordatevi che la sicurezza fisica è tanto importante quanto quella digitale allora questo discorso del non dirlo a nessuno è anche collegato alla fantomatica problematica della cosiddetta sfiga che molti al sud soprattutto diciamo come me si portano dietro quindi dicevo io non dico che possiedo bitcoin perché se no mi bummelà insomma intendi anche quello oppure è soltanto un problema di paura della diciamo della sicurezza anche personale intendi? assolutamente sì allora io qualcuno insomma qualche cliente istituzionale in Italia ovviamente un po' il dubbio sulla paura personale è iniziato a forselo e oggettivamente alcuni so sono spariti diciamo sono andati via e hanno fatto perdere le loro tracce perché dopo questa bull run avvenuta a fine mese di a fine anno 2020 che sta attualmente continuando probabilmente sono diventati multimilionari quindi evidentemente avevano magari parlato tantissimo negli anni scorsi con qualcuno e di quanti bitcoin avevano hanno avuto in effetti molta molta paura anche di questa cosa e insomma sono andati via anche se poi Riccardo oggettivamente parlando tu dici non parliamo a nessuno di possedere bitcoin però poi alla fine insomma quale potrebbe essere il rischio diciamo di questa cosa poi noi tutti possediamo bitcoin magari non ne abbiamo quanto le balene però insomma se siamo qui ovviamente sicuramente qualche cripto in portafoglio in holding l'abbiamo tenuta io no, non so te ma io no non hai? no no, tu non ne hai ok è solo pura passione e studio personale va bene ok mi hai convinto allora però dobbiamo fare una cosa io mi ricordo tempo fa insieme parlavamo anche del modo in cui si salva il seed e poi ci dici quello che era mi ricordo un tuo splendido intervento alla conference che avevamo fatto diciamo anche insieme questa cosa dove tu parlavi anche della famosa password sicura come si scrive una password sicura quindi parliamo di queste due cose poi invece passiamo anche a parlare di wasabi perché per esempio il world wasabi è anche molto molto privacy friendly perché al di là della sicurezza nel mondo del cripto è fondamentale parlare anche della privacy quindi sparati questi altri due punti quindi la seed come si conserva e la password sicura come si scrive ma per il seed io consiglierai di utilizzare ci sono tanti prodotti metallici che ci permettono di salvare il seed in una forma metallica quindi non so in una piastra di acciaio inox con dei punzoni giusto anziché scriverlo a matita su un foglio di carta potremmo scriverlo su una piastra metallica che almeno ci tutela da incendi allagamenti o altro potremmo anche decidere di suddividere il seed in più parti e distribuirle a tal proposito ho fatto anche un video sul mio canale se vi interessa quindi ci sono tanti modi potremmo decidere di nascondere il seed in un libro in un quadro in una foto in un password manager in un computer offline cioè alla fine la bellezza è proprio questa cioè dobbiamo essere fantasiosi nessuno deve sapere come potremmo aver nascosto e dove il nostro seed però cercate di farlo tenendo a mente anche tutte le catastrofe naturali che potrebbero avvenire perché sinceramente salvare un seed su un foglio di carta con una matita non è che sia il massimo da fare comunque ripeto ci sono dei video che ho fatto sul tema su come distribuire il seed e renderlo più sicuro distribuendolo e dividendolo in più parti in più location nel mondo come appunto salvarlo su una piastra metallica sono tanti modi però secondo me se andate su youtube cercate Riccardo Masutti trovate il mio canale tra l'altro da poco ho anche ricominciato a fare un po' di video che ho trovato un po' più di tempo di voglia che ne dice questa domanda invece? ma questo è proprio il punto essenziale è sempre un compromesso tra sicurezza e convenienza qualcosa che è sicuro non è conveniente quindi distribuire il seed di location nel mondo certo è assolutamente sicuro ma non è conveniente quindi trovate il vostro un compromesso che fa per voi insomma ok allora invece parliamo della scrittura della password è che moltissimi la famosa password sicura 1, 2, 3, 4 allora qui insomma mi ricordo il consiglio io già so perché me ne hai parlato però ribadiamo che secondo me questo concetto anche banale però in effetti anche la password per il password manager deve essere scritta così ok ho detto che l'umano non è in grado di creare casualità col proprio cervello ed è vero quindi come possiamo creare casualità assolutamente non con un computer perché i computer non sono casuali secondo me però c'è un qualcosa che è molto semplice che quasi tutti abbiamo in casa e che grazie alle variabili della vita del mondo è assolutamente casuale e si chiama dado un dado a 6 facce ok che noi possiamo sfruttare eh ma infatti lo stavo cercando anche io ma non li ho qua purtroppo ecco magari anche dadi da casino che sono ancora più casuali eh che noi possiamo sfruttare per creare una password in che senso nel senso che c'è un metodo chiamato diceware che trovate comunque con una guida sul mio canale che vi permette di generare una password lanciando dei dadi i dadi essendo casuali perché ci sono tantissime variabili che permettono ai dadi di essere veramente casuali una volta che li lanciamo 5 volte abbiamo un numero di 5 cifre di 6 cifre e questo numero corrisponde a una parola contenuta in un dizionario in questo caso del dizionario diceware che è presente in più lingue quindi noi cosa andiamo a fare andiamo a lanciare i dadi tante volte quante parole vogliamo generare per esempio una passphrase in questo caso che è un sinonimo di password però una password composta a più parole da 8 parole è estremamente sicura di gran lunga più sicura rispetto a la password a una password magari alfonumerica lunghissima che voi create con la vostra testa o scrivendo a caso sulla tastiera la casualità data dei dadi in combinazione alla lista diceware è la cosa migliore quindi appunto qual è il trucco creare un'unica passphrase estremamente sicura casuale che ci permette di sbloccare il nostro password manager che a sua volta contiene infinite password ultra sicure che non dovremo nemmeno mai conoscere perché neanche ci interessa perché poi il password manager ci permette di fare copia e incolla quindi è molto più semplice rispetto di avere un foglietto in cui si chiamano tutte le password quindi dateci un'occhiata anche a questa a questa cosa va bene va bene allora andiamo a parlare di di wasabi perché c'è una funzione su wasabi che è una funzione che è fondamentale per la privacy che si chiama coin join ed è un wallet che permette di fare coin join che cos'è il coin join ma prima di parlare di cos'è un coin join parlare di cos'è una transazione bitcoin una transazione bitcoin essenzialmente si chiama UTXO che viene speso per generare un nuovo UTXO UTXO non sta altro che unspent transaction output quindi un output non speso ogni volta che voi inviate dei bitcoin in un altro indirizzo fin tanto che quell'indirizzo non li usa e non li spende per inviare in un altro indirizzo quello è un UTXO adesso il protocollo di bitcoin dice una cosa molto semplice che ogni transazione e UTXO deve riferirsi a quella precedente ciò significa che visto la trasparenza della blockchain di bitcoin quando io sono a conoscenza di un indirizzo di una transazione posso ripercorrere all'indietro fino alla transazione genesi tutto quello che è accaduto ciò significa che io potenzialmente anzi tutti noi possiamo vedere in tempo reale sulla blockchain tutto quello che accade e se siamo in grado di collegare un indirizzo all'identità di una persona allora siamo in grado anche di ricostruire tutti i suoi movimenti finanziari tutto il suo patrimonio in bitcoin e questa è una cosa molto molto grave la trasparenza della blockchain è una cosa fantastica perché ci permette di avere bitcoin che è una cosa decentralizzata una moneta decentralizzata un protocollo un network decentralizzato però mette anche repentaglio la nostra privacy perché se non la tuteliamo chiunque in tempo reale potrebbe risalire a tutti i nostri movimenti che facciamo tutte le nostre finanze e in quel caso potenzialmente potremmo anche essere vittime di attacchi informatici se abbiamo dei bitcoin quindi cos'è il coin join il coin join in questo caso non è altro che una transazione molto grande formata da tanti partecipanti che mettono a disposizione il loro input le loro UTXO viene effettuato il coin join e vengono restituite agli stessi partecipanti in maniera trustless quindi senza che i vostri bitcoin si spostino da wasabi vengono generati degli UTXO quindi dei nuovi bitcoin che non sono in alcun modo collegabili ai vostri bitcoin in partenza quindi pre-coin join quindi è un modo per riacquisire privacy on chain per fare in modo che nessuno sia i partecipanti del coin join stesso che sono fino a 100 partecipanti sia tutti gli esterni che nessuno sia più in grado di collegare quali input corrispondono a quali output e viceversa quindi una volta che noi facciamo il coin join essenzialmente blocchiamo ogni collegamento tra i nostri bitcoin post-coin join e i nostri bitcoin pre-coin join questa è sicuramente la killer feature di wasabi perché wasabi ricordiamoci è un wallet privacy oriented però questa cosa qua della privacy è relativa alla blockchain wasabi incorpora tante altre tecnologie e funzionalità che ci permettono di avere privacy anche lato network per esempio se voi non avete un full node i famosi full node dovete richiedere il saldo dei vostri indirizzi a qualche server casuale nel mondo quindi cosa andate a fare andate a condividere il vostro ip andate a condividere il vostro indirizzo e andate a condividere anche il saldo del vostro indirizzo quindi questo server potenzialmente può tracciarvi e vede tutti i vostri indirizzi tutti i saldi dei vostri indirizzi e anche il vostro ip quindi la vostra privacy finanziaria è compromessa e c'è una persona o più persone o più entità che sanno quanti bitcoin avete tutte le transazioni che avete fatto in passato e potenzialmente tutte quelle che andrete a fare in futuro perché una volta che io sono a conoscenza di un indirizzo posso tracciarlo per sempre adesso come fare per risolvere questa cosa avendo un full node perché con un full node io non vado più a richiedere dati all'esterno ma li richiedo localmente al mio nodo stesso che contiene tutta la blockchain però ovviamente un full node è qualcosa di tecnico di macchinoso che non tutti sono in grado di avere di installare eccetera quindi cosa fa Wasabi sfrutta delle tecnologie che fanno in modo di tutelare l'utente a prescindere che abbia un full node o meno quindi lato network lato connessione per esempio tutto il traffico di Wasabi viene fatto passare per Tor che è una rete che ci tutela e che ci anonimizza non solo noi non andiamo a richiedere lo stato il saldo del nostro indirizzo a un server casuale comunicando appunto il nostro indirizzo stesso e il nostro IP ma andiamo a farlo in modo molto diverso che adesso non sto qua a spiegare perché è più tecnico in modo tale che nessun server sia in grado di tracciare i nostri indirizzi però è qualcosa di più tecnico ma che non sto qua a spiegare però essenzialmente Wasabi cosa fa? ci dà la massima privacy lato network e anche lato blockchain appunto vi consiglio comunque di dare un'occhiata anche alla documentazione di Wasabi e al sito di Wasabi perché tra l'altro in buona parte l'ho scritta io che vi spiega appunto dalla A alla Z tutto quello che Wasabi fa per tutelare la privacy dell'utente c'è comunque qualcosa da dire che lo dico per onestà lato network potete stare tranquilli perché la vostra privacy è rispettata però se fate un coin join e dopo spostate questi bitcoin su un exchange potrebbe l'exchange chiedervi e farvi domande circa l'origine dei fondi quei coin join perché come ben sappiamo gli exchange centralizzati devono sottostare le leggi di Enti Money Laundering che vuoi sì quindi devono sapere l'origine dei fondi ma ciò non è assolutamente un problema perché voi potete tranquillamente decidere di avere privacy verso il resto del network quindi facendo in modo che nessuno possa tracciare i vostri fondi ma potete decidere di non avere privacy verso l'exchange stesso perché appunto lo sfruttate quindi perché non farlo è proprio questo il concetto di privacy privacy non significa scomparire e non dire niente a nessuno privacy è il controllo di quali informazioni che vogliamo condividere con quali entità quindi io potrei tranquillamente da utente da trader dire io voglio che i miei fondi siano tutelati che nessuno possa tracciarmi nella blockchain però contemporaneamente non ho nessun problema nel dire all'exchange che appunto quei fondi pre-coin join equivalgono a questi altri fondi non so se ho spiegato il concetto quindi cosa fa Wasabi ci tutela però noi possiamo anche dopo il coin join mostrare l'origine dei nostri fondi come lo facciamo questa cosa Riccardo? ma con un click essenzialmente questa è la cosa bella di Wasabi noi stiamo cercando di creare un wallet privacy oriented che semplifichi la vita al massimo all'utente per esempio su Wasabi sulle impostazioni una persona può fare click essenzialmente veramente click e avere un full node una persona può fare click effettuare un coin join con altre 99 persone è veramente semplice potrebbe risultare macchinoso perché funziona in modo diverso rispetto agli electric exchange perché essendo appunto un wallet privacy oriented per esempio ogni volta cambia indirizzo ogni volta dovete inserire quali entità con quali entità effettuate transazioni in modo tale di avere sempre chiaro quali entità conoscono quali indirizzi quali fondi insomma ci sono un po' di cose diverse dagli altri wallet però sappiate che stiamo già lavorando ad una nuova versione di Wasabi che sarà ancora molto più semplice che avrà un design totalmente diverso una usability totalmente diversa e non solo andremo a migliorare anche il protocollo che sta dietro che in questo caso lo chiameremo si chiama Wabi Sabi che è un protocollo criptografico che permetterà di fare coin join in maniera ancora più economica e con più privacy va bene allora io mi ricordo però hai detto che appunto questi wallet che cambiano sempre eccetera la stessa cosa la fa anche Coinbase se non sbaglio anche altri wallet fanno questo discorso di cambiare l'indirizzo di alcuni dei alcune coin di bitcoin però questo non è con join giusto? no 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 il discorso di cambiare sempre l'indirizzo di bitcoin è uno dei dogmi di bitcoin perché noi possiamo avere potenzialmente infiniti indirizzi quindi è sbagliatissimo condividere e utilizzare lo stesso indirizzo perché ogni qualvolta che noi effettuiamo transazioni con un'altra entità questa entità è in grado di vedere quante transazioni abbiamo fatto con quell'indirizzo e potenzialmente tracciare tutto quello che abbiamo fatto in passato invece utilizzando sempre un indirizzo nuovo vergine questa cosa non può avvenire o al massimo avviene solo per quella specifica transazione tra me il destinatario o il mittente il coin join invece cos'è una transazione molto grande composta da più partecipanti che mescolano il loro bitcoin per ottenere dei nuovi bitcoin che non sono più collegati ai bitcoin pre coin join quindi sono due cose diverse ma in ogni caso la cosa bella è che un trader un utente potrebbe decidere di utilizzare Wasabi solo per avere privacy lato network quindi per non condividere con tutte queste entità sparse nel mondo che potrebbero essere singoli ma anche aziende che fanno che il loro business principale è quello di tracciare gli utenti di vendere questi dati ecco che con Wasabi questa cosa non può avvenire perché voi non andate a comunicare tutte queste informazioni e condividere tutte queste informazioni all'esterno ma lo fate e se lo fate lo fate in maniera privacy oriented il coin join invece è un'altra cosa che non è assolutamente obbligatoria che però può essere fatta per migliorare anche la privacy lato blockchain ovviamente a pro e contro perché come ho detto prima magari gli exchange potrebbero chiedervi domande però quindi perché per esempio non avere due wallet ok un wallet che decidete di utilizzare per fatturare scambi con l'exchange e un altro wallet che decidete di tenere per il lungo termine per fare hold e magari effettuato anche il coin join cosicché la vostra privacy per quello specifico wallet a lungo termine non è compromessa e rimane insomma tutelata però sono scelte e comunque il punto sempre quello il primo punto è che dipende da utente utente quindi la cosa importante è che sappiate che ci sono questi tool ci sono queste caratteristiche ci sono queste cose disponibili e se potrebbero interessarvi vi consiglio caldamente di testarle perché ripeto ci lavoriamo personalmente quindi so insomma quanto sia importante il tema della sicurezza della privacy che purtroppo non sempre viene considerato ci terrò a dire una cosa molto molto semplice che ritengo che la maggior parte delle persone si interessi alla privacy quando lo prendono là dietro spero di non dire parolacce che sennò dopo ci censurano cioè io ho ricevuto decina decine se non ci intende i messaggi dopo il data breach di Ledger e un sacco di persone si sono informate su questi temi dopo il data breach siate furbi cercate di prevenire questi problemi non fate come la maggior parte delle persone che compra casse forti e sistemi di sorveglianza dopo essere state vittime di un furto fatelo prima tutelatevi prevenite i problemi e non curateli che è molto meglio è vero questo è assolutamente il modo migliore di affrontare qualsiasi cosa sicuramente il data breach di Ledger è stato un emblema di questa situazione anche ha dichiarato diciamo un po' tutte quelle che erano le falle di quel sistema lì insomma però il problema del Ledger è che effettivamente è la sua grande forza è che dentro ci metti non solo Bitcoin questo è il vero la vera questione allora Bitcoin è un po' ha diversi tool come questo di Wasabi e hai ragione insomma sicuramente si può fare tanto su Bitcoin ma su ma su il su Ash20 oppure su Ether su blockchain Ethereum eccetera è un disastro o cosa insomma perché lì la privacy non esiste in pratica no è un disastro sì ma è un disastro anche Bitcoin se parliamo di privacy perché Bitcoin non è privacy cioè Bitcoin è pseudonimato è pseudoprivacy noi abbiamo privacy fin tanto che proteggiamo la nostra identità personale ma se noi ad esempio non abbiamo un full node non facciamo una serie di cose andiamo a iscriverci a Exchange KYC possiamo documenti potenzialmente anzi è ovvio che dopo c'è un legame tra i nostri Bitcoin e la nostra persona è ancora più più difficile da fare su altre blockchain perché dubito che la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando adesso abbiano un full node per Ethereum dubito che la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando adesso abbia full node per nano o che non so BAT o altre cose quindi essenzialmente se voi non avete una blockchain locale dovete chiedere questo dato a un'entità terza ogni volta che lo fate condividete informazioni su di voi quindi questo è il punto centrale su Bitcoin esiste Wasabi che vi permette anche di farlo in maniera privacy oriented senza un full node su esempio Ethereum ci sono cioè la privacy può essere raggiunta anche su altre blockchain sfruttando non so exchange centralizzati decentralizzati protocolli particolari però cioè purtroppo delle tracce le lasciate sempre quindi magari voi pensate di fare una cosa estremamente privacy oriented quando in realtà non la state facendo perché mancano le basi proprio quindi direi direi di no allora c'è questo questo utente che ha fatto diciamo penso la famosissima domanda no Bitcoin Monero privacy token che cosa sono come funzionano ha senso utilizzarle secondo te ma bella domanda secondo me non saprei dare una risposta precisa perché io personalmente studio Bitcoin cerco di educare su Bitcoin quindi non ho le conoscenze non ho abbastanza conoscenza per dire se Monero è buono o meno se Ethereum è buono o meno cioè mi concentro sulla sicurezza privacy di Bitcoin però essenzialmente considerando il fatto che sulla blockchain di Monero si sfruttano le confidential transactions ovvero anziché come nella blockchain di Bitcoin mostrare l'importo che viene scambiato questo importo viene nascosto ovvio che abbiamo più privacy lato blockchain però la domanda è questi Monero da dove li tiri fuori? Li tiri fuori da Binance che ha già il tuo nome? Magari facciamo un esempio molto semplice tiri fuori da Binance 50 euro di Monero e li sposti su Monero poi dopo mezz'ora li metti fuori su Bitcoin è molto semplice vedere che sei sempre tu perché Monero avendo una liquidità dei volumi molto inferiori rispetto a Bitcoin avendo un'utenza molto inferiore ovvio che ci saranno meno transazioni quindi se io vedo io Binance vedo che tu fai una transazione da un indirizzo meno da un altro indirizzo meno da 50 euro perché io ovviamente so che tu spendi 50 euro perché utilizzi il mio servizio e dopo mezz'ora vedo una transazione di Bitcoin da 50 euro potenzialmente c'è una strada che porta ancora a te quindi sì potenzialmente puoi avere molta privacy facendo appunto questi swap cross chain si dice però contemporaneamente non è insomma una cosa perfetta non esiste la perfezione esistono appunto step tu puoi migliorare la tua privacy e la tua sicurezza andando a step quindi sì potresti sfruttare Monero però questo non ti dà massima privacy assolutamente allora questa è una bella domanda di Francesco ciao Francesco e beh insomma essendo diciamo un software dice Wasabi non è a rischio anche come qualsiasi altro sistema informatico anche se è più sicuro assolutamente sì nel senso che come ho detto prima Wasabi è un software che risiede in un computer voi potete sfruttarlo con degli hardware wallet quindi semplicemente i bitcoin e le chiavi private rimangono al sicuro su un ambiente offline che è quello dell'hardware wallet che comunica con un ambiente potenzialmente anche infettato che è un computer ma ricordatevi che i bitcoin rimangono sempre offline Wasabi è un software quindi non è assolutamente sicuro però ripeto potete interfacciarlo con un hardware wallet oppure potete utilizzarlo come ho detto prima su un sistema pensato esclusivamente per gestire bitcoin punto c'era un vecchio film che ricordo era un film che era appreso da una serie di libri una trilogia dove c'era un personaggio hacker femminile stratosferica che poi diventa una specie di Mission Impossible e lei diceva all'interno di questo di questa trilogia diceva sempre se un sistema non è connesso a una rete non si può bucare questo è il il vero nodo insomma gli hacker devono entrare deve esserci una porta di ingresso quindi forse il sistema migliore è un sistema software mai connesso alla rete insomma sarebbe forse questo il modo migliore insomma per per diciamo proteggersi va bene allora iniziamo a fare un po' di domande a Riccardo ragazzi così lo un po' otteniamo sotto sotto torchio allora intanto ti faccio vedere la domanda di questo soggetto che non so se lo conosci Ricci no non so chi sia non so neanche io chi sia e poi insomma mi manca la sua grappa da quando siamo in lockdown Gianluca ok speditila ok va bene va bene allora questa invece è un'altra domanda ha senso usare tor per collegare soft wallet per garantirsi la privacy sulle altre blue chain o altre bitcoin allora la privacy sulle altre blue chain secondo me è un vero nodo da sciogliere voi state anche lavorando su wasabi per fare una cosa relativa anche le altre blue chain oppure no via perché spazzatura anche tu un massimalista su bitcoin sì cioè siccome sono cose molto complicate concentriamo gli studi gli sviluppi su bitcoin che è comunque la più scritto valuta di riferimento comunque il discorso di utilizzare tor assolutamente sì è sempre molto utile per tutelare la vostra privacy lato network ricordiamoci lato network perché appunto collegandovi tramite tor non andate a comunicare il vostro indirizzo ip che è legato a un'utenza che è legato nome e un cognome quindi tutelate la vostra privacy lato network però non basta questo è un qualcosa è un primo step assolutamente sì va bene va bene quindi allora questo diciamo è fattibile poi un'altra cosa che ti volevo chiedere wasabi lo scarichiamo basta andare quindi sul sul sito wasabiwallet.io giusto? sì e poi da qui basta andare qui in download noi abbiamo macOS windows ubuntu e other quindi altre versioni di linux basta scaricarlo e lo installiamo sulla nostra macchina e boh il gioco è fatto giusto? sì è già pronto l'utilizzo puoi dare qualche consiglio relativamente proprio alla parte diciamo al tutorial ecco molto semplice il consiglio è quello di leggere magari prima la documentazione per capire insomma quali sono i problemi e come wasabi va a risolverli e come utilizzare wasabi al meglio perché ripeto non esiste strumento che vi dà massima sicurezza privacy però voi potete conoscere questo strumento e dovreste utilizzarlo al meglio siccome ci ho lavorato molto la documentazione sarebbe bello se la leggeste e testaste magari anche wasabi in testnet perché potete testarlo con dei bitcoin finti che appunto è una cosa fantastica secondo me ok e allora c'è quest'altra domanda di Claudio su wallet privato si possono depositare usdt non capisco in che senso wallet privato intende su wasabi su wasabi no ovviamente no 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 wasabi è bitcoin only bitcoin only e poi invece questa di Marco che ci parla di un'applicazione avete già pensato lo sviluppo di app sì è una cosa che abbiamo in cantiere non scaricata assolutamente nessuna versione mobile di wasabi perché non esiste e ci sono dei virus comunque su play store che circola quindi non esiste wasabi per smartphone esiste però un fork di wasabi per smartphone che si chiama chain case magari dopo invio il link a Mauro che magari può condividere in chat con tutti voi però è sconsigliabile attualmente perché è una versione molto molto beta quindi proprio agli inizi in ogni caso secondo me non ha molto senso ottenere delle grosse somme in bitcoin sullo smartphone perché magari è molto meglio tenerele su un desktop o su un dispositivo dedicato in questo caso sono d'accordo con Riccardo se non dovete fare trading oppure semplicemente scambiarli e quindi avete bisogno di velocità da quel punto di vista andare a tenere grosse somme di bitcoin in uno smartphone ha pochissimo senso quando abbiamo possibilità di utilizzare questi software wallet come Wasabi oppure Yard Wallet in generale ovviamente anche qui come diceva lui e mi trovo d'accordo dipende tutto dalla funzionalità e da quello che vogliamo fare perché se vogliamo mettere magari i nostri BTC in SeFi DeFi o quant'altro abbiamo necessità anche di avere velocità quindi lì lo smartphone ci aiuta sicuramente allora WPN tipo idem no questa non l'ho ah ok ma la WPN è fantastica perché vi permette di avere una connessione crittografata protetta tra voi e il server di destinazione e vi permette anche di mascherare i vostri IP però dovete comunque fidarvi della WPN che non vi tracci e che non non salvi tutti i vostri dati che potenzialmente può avvenire anzi avviene sicuramente quindi sfruttate magari WPN che hanno una reputazione molto importante l'interno della community quella che consiglio io si chiama MULVAD quindi M-U-L-L-VAD però in ogni caso dovete sempre dare fiducia se volete un qualcosa decentralizzato proprio come Bitcoin che vi protegga lato network quindi per la connessione usate Tor perché è la cosa la cosa migliore ovvio che la WPN è molto più veloce di Tor ed è fantastica tra l'altro questa si può pagare anche in Bitcoin quindi è perfetto o monero come diceva l'utente prima se non sbaglio secondo me è un'altra è un'altra cosa che ha scritto Riccardo sono sicuro insomma di questo sarà scritto anche tu non ho assolutamente connessioni o partnership con MULVAD io qua una cosa che ci tengo a dire io consiglio solamente quello che veramente credo che sia utile agli utenti non non lo faccio per un ritorno un resoconto personale assolutamente cerco appunto di educare le persone su questi temi perché mi rendo conto che sono temi molto importanti sottovalutati e perché non voglio che le persone facciano gli stessi errori miei appunto io purtroppo ho perso tutti i miei Bitcoin ho bruciato la mia privacy quindi non vorrei che altre persone avessero gli stessi problemi la VPN ha il tuo IP quindi non è sicura esatto sì ok qui ci hanno risposto diciamo in maniera corretta allora qui invece c'è un discorso che ecco è molto caro ai cripto investitori cioè il famoso browser Brave rispetto al classico funziona o non funziona usator insomma sì o no ma Brave secondo me è un fantastico browser per l'uso quotidiano perché va a bloccarvi tutte queste cose come i tracker pubblicità cookies terzi eccetera 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 però se volete un qualcosa che è indistinguibile quando voi accedete a un sito web e che vi dà veramente privacy lato network salutate Tor Browser fine so che Brave ha la possibilità e ha l'integrazione Tor all'interno di Brave però sono state rilevate tante vulnerabilità l'ultima due mesetti fa e ripeto se c'è Tor sfruttate Tor nativo non sfruttate Brave che sfrutta Tor anche Tor è gratuito anche Tor è un browser normalissimo da utilizzare quindi magari potreste utilizzare entrambi Brave per l'uso quotidiano Tor se dovete effettuare delle operazioni in confidenzialità ok va bene ragazzi allora ci sono altre domande allora qui ci dicono facciamoci tutti un nodo sarebbe la versione di Gianluca insomma di questa live e poi parlano anche di NordVPN ottima allora io Nord non l'ho mai utilizzata quindi non la conosco ragazzi non saprei comunque in generale ragazzi poi c'è la questione che Claudio ripete ancora una volta ci parlava del leggio nano del terzo si puoi mettere questo rispondo io so puoi mettere gli USDT tranquillamente su questi hard wallet sono diciamo che la loro veramente la loro il loro credo valore il loro pro principale proprio quello insomma di tenere anche altre altre cripto va bene allora se non ci sono altre domande ragazzi noi abbiamo fatto un'ora e venti di live abbiamo massacrato Riccardo con diciamo 8000 domande e però però quante risposte intanto relative al lato privacy quindi da parte mia ovviamente non posso che ringraziare Riccardo per essere stato qui con noi e soprattutto aver accettato di poter fare una live un po' diversa dal solito quindi un po' una specie di intervista un discorso tra amici lato veramente privacy e poi a dirti la verità insomma tutti quanti noi ne abbiamo veramente bisogno non si smette mai di imparare da questo punto di vista va bene allora qui abbiamo un'altra situazione avete parlato di tantissime soluzioni davvero complicate allora non sono complicate secondo me sono semplicemente da abituarsi a ragionare così io la vedo in questo modo perché poi alla fine dobbiamo tutti noi cercare di 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 metterci un po' del nostro ok ragazzi questa cosa vale tutti quanti voi me lo chiedete sempre sul trading me la chiedete sempre sugli investimenti volete il piatto pronto allora c'è questa cosa Riccardo che purtroppo è un impossibile da levare insomma per noi poi non è facile diciamo approfondire ogni argomento però anche in questo fatto in questo caso lato sicurezza ragazzi una cosa è avere mille dollari una cosa è averne diecimila cinquantamila un milione credo che la differenza la faccia l'importo Riccardo ce l'ha detto all'inizio o sbaglio sì però secondo me dovremmo considerare il fatto che noi non stiamo tenendo sicuro euro dollari noi stiamo tenendo sicuro un qualcosa che è il primo elemento digitale raro unico al mondo quindi noi non sappiamo bene cosa sarà e quanto crescerà in futuro quindi se noi partiamo e diamo delle basi molto sicure allora possiamo essere sicuri anche tra 5-10 anni se noi oggi iniziamo male e tra 5-10 anni vogliamo effettuare operazioni non possiamo farlo in massima sicurezza ricordando il mio discorso di prima del corso o altro sul mio canale ho fatto un piccolo corso proprio di introduzione gratuito alla sicurezza e alla privacy faccio anche chiamate ogni martedì faccio una chiamata alle 9 per discutere di questi temi in forma essenzialmente estremamente gratuita perché appunto quello a cui tengo io è fare educazione gratuita su questi temi perché non c'è purtroppo non ci sono tante guide e tanti tutorial su queste cose quindi mi sto impegnando per fare questa cosa c'è l'idea di fare un corso perché me lo chiedo veramente tantissime persone e probabilmente la farò perché ripeto nell'ultimo due settimane mi sono arrivate tantissime domande quindi se volete potete entrare sul mio canale di telegram e là comunque annuncerò tutti i vari corsi o altre cose che sgrupperò però per ora sappiate che il tutto lo trovate in forma gratuita su youtube quindi approfittatene perché comunque la trovate tutto ne vale la pena va bene allora ragazzi tutti i link di Riccardo sono nella descrizione di questo di questa live chiaramente e sicuramente ci rivedremo noi ospiteremo di nuovo Riccardo diciamo anche quando ci saranno novità magari su whatsapp qualcosa di nuovo che lanciate qualcosa di interessante perché no oppure anche per altre altre tematiche per esempio relative a quello che hai detto all'inizio del video che mi interessa anche a me personalmente cioè il second layer di bitcoin che un po' forse se lo dimenticano quando si parla di tutte le versioni alternative ad eth forse si dimenticano la versione vera dell'alternativa ad eth cioè i second layer e quelli che verranno anche sulla blockchain di bitcoin perché non abbiamo visto niente su bitcoin e io la vedo così va bene allora Riccardo vuoi salutare così poi chiudiamo sì ti ringrazio ancora Mauro per lo spazio dedicatomi e niente buono studio a tutti in bocca al lupo e buona bull run perché sembrerebbe che stiano cambiando molte cose ultimamente e appunto don't trust verify non fidatevi di nessuno verificate sempre ok ciao Riccardo di nuovo buona serata ok allora ragazzi vi saluto anche io ovviamente dobbiamo rivederci in settimana per la questione di bitcoin di quello che sta facendo sale scende sale scende ragazzi è un periodo complicato ma sapevamo tutto quanto da un punto di vista di analisi tecnica ma noi ci vedremo nei prossimi video per ovviamente ragionare un po' su tutto ma preferisco ogni tanto portare anche sul canale queste live di educazione finanziaria ed educazione in questo caso sulla sicurezza e sulla blockchain in generale perché questo è un mondo ragazzi che non è solo grafici non è un mondo solo fatto di queste cose e perciò insomma avanti anche a quello che è la realtà della blockchain a quello che è la realtà delle criptovalute va bene io vi ringrazio come sempre per la vostra presenza e noi ci rivediamo nel prossimo video anzi nella prossima live ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti